Sì, sulla questione del valore sociale. Costruire imbarcazioni e navi di questo livello comporta innanzitutto una preparazione tecnologica e di maestranze di eccellenza mondiale. Non c'è nessuno che riesce a fare prodotti di qualità come li facciamo noi, così tanti nel mondo. Non nessuno. Il gruppo Azibut Benetti è il primo costruttore al mondo di maxi, super e mega yacht. Però ne può costruire uno all'anno, due, forse, non mi ricordo, ne poteva costruire pochissimi all'anno. Ricordo quei tempi lì oggi, magari... Ai tempi. Eh ma ne farà due. Le do dei numeri, però volevo stare su un attimo... Però sui 100 metri potrei scommettere che più di due, non so se... No, 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 siamo a livello di... come potenza di fuoco siamo su 6-7 mega yacht al anno. A 100 metri, di 100 metri all'anno. Ne ha varati due a febbraio e poi credo un altro, un terzo a marzo, tanto per dare un'idea. Ma avendo più, più, vabbè, più cattieri sono certo. Certo, più cattieri. No, e quello che volevo sottolineare per i nostri ospiti, per i telespettatori, è che il valore sociale di questa azienda, dell'azienda nautica in particolare, presa nel suo insieme, rappresenta 187.400 famiglie che mangiano. Allora uno dice, e l'ho sentita la critica in questi giorni a Venezia, ma in fondo questa nautica di lusso, chi se lo può permettere? No, signore, non funziona così. Innanzitutto dovete sapere che questo prodotto viene esportato al 95% e ci dà controbilanciamento sull'import-export. Primo. Secondo, ci sono quasi 200.000 famiglie che mangiano. E c'è un indotto che fa lavorare, che sono tantissime. La Fiat in Italia oggi ha 90.000 dipendenti. Della nautica, siccome è lusso per i ricchi, eccetera, eccetera, c'è una forma di pregiudizio pesante. Ma nella Ferrari, per esempio, no. Se lei va in Emilia-Romagna e dice agli emiliani, la Ferrari è per i ricchi, certo che è per i ricchi. Ma vogliono dire ai governatori dell'Emilia-Romagna, che non sono certamente di destra, togliete la Ferrari perché è dei ricchi. Allora il principio, i ricchi fanno lavorare i poveri, è un principio di equità sociale, di lavoro, di socialità, di reddito. Cioè non è bello dire i ricchi fanno lavorare i poveri. Perché io potrei dire i poveri fanno diventare ricchi gli altri. Cioè c'è sempre da un punto di vista dove lei vede le cose. Perché il bicchiere è bello da una parte, ma è bello anche dall'altra. Mi è stata fatta una battuta sulla quale io eccepivo in maniera pesante il senso, no? Che ero insieme con un signore che si occupa di alta finanza e mi disse un giorno, vedi quel super yacht? Il proprietario di quel super yacht è un benefattore. Io ho detto guarda, porta pazienza, benefattore è proprio tutto tranne che quello. Poi facendo un ragionamento un po' più complesso, siccome quel signore in quel super yacht ci va 20 giorni l'anno, ma attorno a quel super yacht lavorano 100 persone, 100 persone che prendono uno stipendio in un anno, allora sotto questo aspetto possiamo dire che chi ha i soldi e li spende provoca economia, socialità e lavoro. No, ma sono d'accordo, lei lo provi a dire una parte politica italiana che la vede in maniera opposta. Sicuramente sarebbe, verrebbe fuori un ragionamento molto più complesso e sicuramente non so chi ne uscirebbe vincitore da questo ragionamento. Io dovrei mettere un ring qui per dire le cose. Ma incontriamoci, incontriamoci. No, ma sarebbe, sarebbe, ovviamente io capisco e condivido, dall'altra parte dice sì, però io sono un povero, lui va bene e c'è una disuguaglianza che è tutta da verificare com'è. Ma è un discorso diverso che poi ne parleremo se vuole anche di questo. Però ritornando a Monte, allora ieri il mio giornalista è venuto, stiamo ricordo in diretta tutti i giorni nel nostro telegiornale con il Salone Nautico di Venezia. Devo ringraziare anche Marino Masiero che mi ha dato questa opportunità perché sicuramente stiamo facendo vedere qualcosa di molto bello. Ed è salito, non so se la regia ce l'ha in uno yacht, e ha chiesto, ci ha fatto vedere questo yacht, continua a dire che è uno yacht ovviamente il più bello che c'è nel Salone Nautico di 25 metri. Mi sembra adesso, non so se avremo le immagini, Claudio le metterà in onda. Ecco, ma quanto costa uno yacht di quello? Eccolo qui, vale, questo, eccolo qui, esatto, questo qui perché la parte superiore è questa, lo stiamo proprio vedendo. Ecco, nel nostro telegiornale l'abbiamo raccontato sotto tutti gli aspetti, sia, eccolo qui, questo qui è il punto guida, il flight si chiama la parte sopra, vero? Sì, allora abbiamo... Guardi che ho imparato con questi giorni, pensi lei, in fatica, ho fatto per... Quanto vi dovrà costare una roba del genere così? Con delle vetrate che sembrano addirittura dei saloni più che da mare, da villa? Allora, abbiamo in Salone una ampia gamma di imbarcazioni. Sì, no, ma così era così, adesso questa è così. Siamo intorno ai 10 milioni di euro. 10 milioni di euro a questa imbarcazione qui, ovviamente. Ecco, ne ho fatto questa domanda per chiedere... Io non le dico questa, diciamo che dentro al Salone di Venezia oggi ci sono delle imbarcazioni che si aggirano intorno ai 10 milioni di euro. Ecco, anche su questa tariffa, su questo prezzo qui, viene ovviamente fatta in cantiere navale su ordinazione la barca, oppure la, diciamo, l'azienda che costruisce barche, prepara già dei campioni per farli vedere, cioè questa barca di 10 milioni è già venduta oppure no? Normalmente su questi livelli viene customizzato l'interno. Sull'esterno si possono fare solo delle, come dire, modifiche in funzione degli accessori. Allora, uno non è venduta, la preparano, poi chi l'acquista si confeziona come vuole l'interno di questa nave. Diciamo che c'è l'uno e l'altro. Allora, se il cantiere non ha ordini, finisce l'imbarcazione e la porta sul mercato e normalmente c'è un interior design che stabilisce quelle che sono le finiture della barca. Ovvio. Normalmente in fase di costruzione, soprattutto per case importanti come queste italiane, abbiamo ordini che arrivano da tutto il mondo, per cui arriva in Italia il cliente estero e passa in Italia o addirittura incarica un ingegnere che lo segue dal punto di vista proprio della costruzione dell'imbarcazione, dalla A alla Z, sempre ingegneri italiani, si chiamano surveyor, periti che sorvegliano la costruzione. E poi normalmente gli architetti, i designer interni delle case produttrici lavorano in combine con l'architetto che nomina l'armatore, quello che sarà il futuro armatore. Per guidare queste barche, ovviamente non questa dice, ma per guidare determinate barche, ci vuole la patente. Da dove inizia a esserci necessità della patente nell'imbarcazione? Dicevo una volta, sopra i 40 cavalli del motore. Mi aiuti, mi corrego? Così diamo anche una spiegazione ai telespettatori, per chi non lo conoscesse, se uno vuole prendere la patente può prendere un motore e uscire dalle 2 miglia, 3 miglia, 6 miglia, quello che è. Com'è la situazione? Le barche si dividono in natanti, imbarcazioni e navi da diporto. Una barca che ha un motore superiore ai 40 cavalli necessita di una patente. Se la barca è una patente, perché può essere normalmente a motore, oppure a motore e a vela, perché sono due programmi diversi di esame. Una volta entro le 12 miglia, oltre le 12 miglia, quindi abbiamo già 4 categorie di patente. Quindi io devo fare la patente oltre i 40 cavalli, devo avere sicuramente la patente. E c'è la patente entro le 12 miglia, oltre le 12 miglia. Questo le permette di fare la cosiddetta navigazione d'altura. Quindi sono due patenti diverse. Due patenti diverse, con due esami diversi. Navigazione costiera entro le 12 miglia, navigazione d'altura oltre le 12 miglia. Vela motore per l'uno e per l'altra situazione. Dopodiché si passa sulla categoria navida di porto, quindi quando l'imbarcazione supera i 24 metri di lunghezza, si passa alle navide di porto. Fermo. Allora, fino ai 24 metri, se io prendo un 20 metri, basta questa patente? Sì. Giusto? Non serve nessun'altra patente. Ovviamente però un 20 metri non è come la barca da 6 metri, che per navigare avrei bisogno e avrò bisogno di un marinaio, presumo io, perché oltre i 20 metri, 21 metri. Cioè anche qui c'è una disuguaglianza nell'avere la stessa patente da 40 cavalli a che ne so a... No, la patente è la stessa. La patente è la stessa e si divide fra, ripeto, entro le 12 miglia o oltre le 12 miglia. Quindi lei può prendere con una patente entro le 12 miglia, superiore ai 40 cavalli, serve la patente, può prendere la barca fino a 24 metri di lunghezza. Normalmente, lei ha fatto una domanda assolutamente pertinente, chi ha una barca di queste dimensioni non si porta la barca da solo. Ha un marinaio, che fa anche da comandante, almeno uno. Poi su una barca di 24 metri, una di quelle che erano inquadrate qua è 24 metri di lunghezza, poi ha delle appendici che permettono la barca di essere più lunga. Cosa vuol dire le appendici? Allora, la barca supera praticamente un esame di omologazione con la carena, con lo scafo, lungo 24 metri. Poi si possono mettere delle appendici, degli aggetti, delle prolunghe, sia davanti che dietro. Cosa intende per prolunghe? La scaletta per scendere? No, no, proprio una plancetta di popa per fare il bagno, per esempio. Ah, ok. Oppure un gavone di popa. Che naviga oppure viene sollevato? No, no, che naviga. Ah, che naviga. Sì, 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 che naviga, che tocca l'acqua, eccetera, sì, sì, assolutamente. Però io volevo dirle questo, la nautica che noi vediamo che fa l'uso, quella delle starlette, Ricchi, Premi, Cotion, dico io, non è la nautica che abbiamo in Italia. La nautica che abbiamo in Italia è fatta di 500.000 imbarcazioni, di cui 350.000, pensi un po', sono dentro ai 10 metri. Quindi quello che giustamente lei, come dire, ma a tutti, a voi fa impressione, è un segmento tutto sommato abbastanza compresso della realtà della nautica da riporto. Però è quello che fa più, esattamente, è come le Ferrari sono molto meno rispetto a tutte le altre. Devo dirle che è anche quello che muove più economia. Quindi se da una parte, diciamo così... Qui stiamo vedendo dall'alto l'arsenale che è... Questo è l'arsenale dall'alto, non adesso quando ci sono le barche, non c'è il salone. Se da una parte questa fascia abbastanza compressa di imbarcazioni è evidentemente la nautica per i ricchi, dall'altra parte devo dire che muove un sacco di economia. Fa una barca di medio-grande dimensioni, spende il 5% del suo valore di manutenzione ordinaria e straordinaria. Beh, dice, guarda, stiamo facendo davvero un escurso che mi sta piacendo, le dico io, pensi... Allora facciamo così, e lei, tra l'altro, questo signore, ne credo se ritorniamo in studio, è un signore che, vedete, lo vedete qua d'altro, lo chiamano e dicono, Senta, caro Masiero, abbiamo un porto che non sta andando bene, viene qui a darci una mano, lo riapriamo, lo rendiamo un porto che dia anche delle risorse economiche alla città e al paese. Lui ne ha aperto, ne ha uno a Chioggia, uno a Rodi Gargarico in Puglia, uno lo sta aprendo... A Franca Villamare. A Franca Villamare, che è in Abruzzo, quindi sta aprendo così. Ecco, un posto, facciamo... Gli ho fatto tutta questa premessa per fare i complimenti anche da questo lavoro. Grazie. E sotto questo profilo, uno arriva, prende la barca da 12 metri, 13 metri, a 10 non mi piace, mi piace più 13 metri, 39 piedi, mettiamola così, va bene, 42 piedi. E ci vuole anche il posto barca. Ecco, un posto barca, oggi, quanto costa, ovviamente, lei mi dirà, dipende da che porto, se la porto a Porto Cervo ovviamente avrà un costo, facciamo un porto medio, Lignano, facciamo Chioggia, facciamo, ecco, io porto la barca, la tengo lì tutto l'anno, 13 metri, 14 metri. Quanto mi viene a costare tra onneggiarla, tenerla lì, alzarla, pulirla, insomma, fare tutta la montazione del caso, con una barca di 13 metri per il gommone, me lo pulisco io e quindi non serve tutto quello che le sto chiedendo. Allora, dipende giustamente, come lei ha detto, da qual è la location. L'Italia è divisa a fasce, quindi al nord e al nord-centro per quello che riguarda il Tirreno, abbiamo il segmento più costoso per quello che riguarda proprio i servizi portuali turistici. La barca di 12 metri nell'arco dell'Adriatico nord-est, quindi da Trieste fino a Chioggia, spende per avere un posto barca intorno, solo di un posto barca, intorno ai 6-7 mila euro all'anno. Dopo di chiedere di investire altri, altrettanti soldi per fare manutenzione ordinaria, straordinaria. Quindi sarebbe meglio comprarsene un posto barca? No, io sto parlando di 6-7 mila euro di manutenzione straordinaria sulla barca, sull'imbarcazione. Circa 6 mila euro di posto barca. Il comprare è un termine un po' forte. Qualche amico a Lignano si ha preso due posti barca, uno lo affitta a lui. Nella realtà si affittano anche in quel caso, perché essendo del demanio dello Stato, uno dice che l'ha comprato, ma in realtà lui l'affitta per 30 anni, per 25 anni, in funzione di quant'è lunga la concessione del demanio dello Stato. Tenga conto che chi fa quel tipo di contratto, che è un contratto di affitto pluriennale con pagamento anticipato, poi si deve assorbire i costi del condominio. Se lei fa una somma fra quello che ha speso anticipatamente e quello che è il costo del condominio, arriva più o meno alla stessa somma che l'ho detto io. Dall'altra parte dell'Italia, nel Tireno, abbiamo circa un 30-40% in più rispetto al nord-est dell'Adriatico. Quindi i 6 mila euro di qua diventano 10-12 mila euro di un'altra parte. Con dei picchi assolutamente costosissimi che si trovano nel nord della Sardegna, quindi Porto Cervo, vedo che lei è molto informata, oppure un po' più sotto, sì, la Toscana, fino ad arrivare all'area partenopea, quindi Napoli, le isole Pontine, Capri. Senta Maniomagino d'Italia è ovviamente un paese che è circondato dal mare e visto che lei recupera porti che sono ormai lasciati lì allo sbando, uso un termine, mi corregho se non è corretto, e le faccio un ragionamento complesso. In Italia ci sono molti porti che sono andati a ramengo, mi scusi questa parola ortodossa che non è molto bella, però le dico per renderle... Molte zone dell'Italia che dicono Palermo, per dire in Sardegna, dove hanno fatto delle pressioni politiche per costruire nuove porti, perché il porto in una città porta economia, porta ricchezza. Domanda, perché c'è questa disuguaglianza? Se la gente vuole il porto e dove c'è il porto non riescono a renderlo utile, perché c'è questa richiesta in continuazione di creare porti? Allora, la domanda, io devo dire che lei fa delle domande veramente molto pertinenti e anche impegnative, perché la situazione, una risposta alla sua domanda è abbastanza complessa. Allora, intanto bisogna vedere l'Italia in un volo d'uccello, cioè io arrivo dalle Alpi e arrivo in Sicilia e guardo che cosa c'è. L'entroterra delle coste è assolutamente disomogenea, quindi abbiamo delle aree molto antropizzate dove c'è una fiorente economia e dove c'è grande richiesta ai posti barca. Le sto parlando da Trieste fino a Pescara, da questa parte, e dalla Costa Azzurra fino a sotto Napoli. Quindi abbiamo Napoli, una città ricchissima, Roma una città ricchissima, Milano, pensi, Milano-Genova si arriva in un'ora. Da Milano a Genova si arriva in un'ora. La Liguria ha dei bei porti, ma sono assolutamente insufficienti rispetto alla richiesta di mercato. E come tutte le cose dove c'è una grande richiesta e una scarsa offerta, i prezzi, i costi di GESA salgono. In queste aree potrebbero starci molti più porti di quelli che ci sono. E questo è un dato. Noi abbiamo 8.000 chilometri di costa e abbiamo 228 porti in Italia, più altrettante strutture, circa 300 per dire la verità, strutture minore. Quindi i porti, quelli che chiamiamo porti, si dividono in porti, marine e prodi turistici. I porti veri sono 228. Se lei li divide su 8.000 chilometri di costa, ne ha più o meno uno ogni 40 chilometri. Ma ci sono dei tratti di costa dove ci sono anche 100 chilometri, 200 chilometri, 180 chilometri dove non c'è un porto, soprattutto al sud. È un tema di sicurezza della navigazione. Perché lei sta transitando, ipotesi, con la sua barca in un tratto di costa dove per arrivare al primo porto disponibile deve fare 50 miglia, quindi 100 chilometri. Arriva a brutto tempo, arriva a una burrasca, lei ha bisogno di un porto rifugio, non ce l'ha. E questo è un dato. Per questa ragione bisognerebbe avere più porti laddove mancano in termini di lunghezza, di costa. Di sicurezza. Di sicurezza. Dopodiché c'è un tema invece legato alla questione economica. L'Italia del sud, che è il posto più bello dove realizzare i porti, non ha un'entroterra così fiorente come siamo nel nord e nel centro nord, da una parte e dall'altra. Quindi bisogna rendere accessibili quelle coste, quei mari, perché la vera risorsa del sud e del paese è la costa, quindi le aree costiere del sud del paese, che però non sono messe a profitto sotto tanti aspetti, non solo quello nautico. Le spiego, in velocità. Manca l'alta velocità. Cioè noi se vogliamo andare a Lecce ci mettiamo, saliamo in treno a Venezia, arriviamo a Lecce che ci siamo fatti caccia e ricotta, non so se mi spiego. Ci siamo stancati. Non abbiamo strutture, non abbiamo molte strutture aeroportuali, 400 km di costa straordinaria della Puglia, con un'acqua invidiabile, che non ha niente da invidiare alla Sardegna. Beh, è il centro meglio però dell'Adriatico. Assolutamente, assolutamente. Però, devo dire, la parte pugliese, soprattutto dal Gargano in giù, abbiamo delle spiagge. Allora, la torbidità dell'acqua è una cosa, l'inquinamento è un'altra. Lei, se trova una spiaggia per bambini, non troverà mai l'acqua limpida, così come lo è nella spiaggia di sassi e di ciotoli. Perché appena si muove il mare abbiamo, come dire... Tranne in Sardegna, però, tranne in Sicilia, tranne in Salento. Abbiamo delle sabbie che sono particolarmente... non sono sabbie di origine arenaria, ma sono sabbie di origine tipo corallina, sono quella roccia bianca che non sta in sospensione, non abbiamo presenza di limo ed argilla. Quando il mare si agita, non c'è limo ed argilla, per cui rimane limpida l'acqua. Tornando al tema, su 400 chilometri di Puglia abbiamo due rapporti, Bari-Brindisi, adesso sta aprendo Foggia. Su 200 chilometri di strada, Venezia-Milano, abbiamo sei aeroporti. Capisci che facciamo fatica a fare... Facciamo fatica a sviluppare un'area anche turistica, avvocata al turismo, dove abbiamo una mobilità molto difficile da fare arrivare. E la tematica sociale legata alla mobilità è una tematica fondamentale. E quindi ha una conseguenza che nei porti si porti. Assolutamente, quindi facciamo fatica ad arrivare sui porti. Fermo lì che c'è la pubblicità. Tra poco...